Ho protocollato 10 nuove interrogazioni all'amministrazione comunale, segnatamente all'assessore alla vivibilità edifici e strutture comunali Gerardo Santosuosso, per far riferire su tante questioni in interesse collettivo, a cominciare dalla struttura da dedicare agli uffici del commissariato della Polizia di Stato, a farlo sapere attraverso una nota stampa il consigliere di opposizione Natalino Consolato Caccamo. Le altre interrogazioni, continua il consigliere, riguardano temi non meno importanti, quali il funzionamento della depurazione delle acque di scarico, il trasporto pubblico, il servizio scuolabus, le menze scolastiche, le verifiche sismiche di tutti gli edifici comunali, la gestione degli impianti sportivi, gli immobili comunali occupati abusivamente. Il mio partito, da sempre, sono le battaglie serie e concrete per risolvere qualche minimo di problemi di questa comunità afflitta da mille angosce, letteralmente martoriata dal governo di quest'attuale maggioranza. Il mio esempio, e non le chiacchiere da bar, lo dimostrano. In due anni e mezzo, oltre 50 interrogazioni e interpellanze proposte, problemi grossissimi risolti alla fonte, pensate alla scuola Scudiero, la battaglia per la trasparenza che ha fatto aprire diversi fronti di indagine da parte di più autorità inquirenti, la partecipazione civica. Insomma, conclude il consigliere Pentastellato, abbiamo fatto fede a tutto quello che avevamo proposto dall'opposizione, purtroppo con una scarsissima carica elettorale, dato il contesto in cui siamo abituati, che poco spazio lascia alle novità e all'alternativa.